Quest'oggi la politica non è più in grado di farlo, perché se la politica si fa in televisione è chiaro che è difficile, no? Quindi chi la fa? La fanno altri, grazie al cielo. Non è disperato il mio discorso, è che grazie al cielo la fanno altri, le visioni ce l'hanno altri.